E ragazzi, come va? Io sono Feriniti e io sono Stefano e questo giochiamo GTA V E a grandissima richiesta, oggi giocheremo in nascondino trasformati da animali Ovviamente con i spi giochi Luca perché così è più divertente Esattamente, abbiamo scelto una location, una casa molto grande, una specie di fattoria dove si può entrare dentro Grazie sempre al server modato che ci permette di fare delle cose fighissime E quindi giocheremo a nascondino trasformati da degli animali dentro questa casa che è una sottospecie di fattoria Ed è molto carina perché ci sono abbastanza nascondigli, soprattutto quando si è dei piccoli topolini Quando si è una mucca gigante, non esiste un nascondiglio Lo potete immaginare da soli, Consolini Però posso fare muuuu Ciao a tutti A me va male perché sono in team con te, devo essere sincero Ma io sono molto furtivo come puoi vedere, ah mi sono incastrato, aiutatemi Mi sta sbalzando Si calmi signor cinghiale, espi cinghiale Ok mi sdrai un attimo No calmo, sta un po' Oh mamma mia, perché ha scelto un animale così grande? Mi date la rattata di pancia per favore Andatelo lì a dormire, ignoratelo quando chiede di... Mi sto grattando la schiena Si chiede sempre di grattargli la pancia e la schiena, dovete ignorarlo perché altrimenti qua non si inizia Andate a nascondervi, lasciateli a dormire e andate a nascondervi voi due Avete 30 secondi prima che mi arrabbi e vi sbrani Espi stai fermo, togliti Sto cercando di guardare dalla finestra Ok Non provare a guardare dalle finestre Ok, Espi non c'è nessuna Sono svenuto Siamo pronti? Possiamo venire? Ma c'è Luca un po' svenuto, aspetta un secondo Eh dai però qua, non è che siete animali e ci fate aspettare il doppio Su Allora iniziamo a cercare Io vado da parte destra In cucina Dove siete? Non fa La casa è davvero gigantesca Sì, sì, enorme, enorme, enorme Quindi sarà difficile trovarvi Avete fatto un bel nascondiglio o è così così? Secondo me hanno fatto le scale Devo ricordarmi i loro colori Uno era un pug bianco, bianco, che lo dovrei vedere facilmente L'altro invece è un marroncino Ciao Espi Facciamo le scale, che dici? Io vado su e tu stai giù? No, anche io voglio andare su Guarda quanto sono bello Guarda come salgo bene le scale Non fa Espi, non fa Espi Eh ma Fer sta ridendo Guardalo facendo le scale, guardalo Ce l'hai fatta Espi? Come fai a vedermi? Ti vedo dallo schermo di Steph Ti sta spiando Le hai trovati? Dimmi che le hai trovati? No Espi, se scompari come dovrei trovarli da solo? Secondo me sono al piano di sotto Vorrei una conferma come indizio Dato che siamo già a tre minuti No No che non ci siete O no che non mi dai un indizio? No che non ti do un indizio Dai Fer Cerca Non fare la noiosa Cerca Dai non hai neanche provato a cercare Non hai visto neanche tutte le stanze Quindi che cavolo vuoi un indizio? La vita da coyote è impegnativa Perché si muove strano È difficile Anche la vita da cinghiale è difficile Ma la tua vita in generale è difficile Espi A priori Da che animale sei? No nulla nulla Ma siete dentro o fuori casa? No dentro ovviamente Almeno sono dentro casa Almeno quello l'hanno rispettato Ma l'avevamo detto dentro casa Quindi dentro casa Come fanno essersi nascosti? Espi? È ormai scaduto il tempo C'è chi volete Ormai è tardi Ormai non ce l'avete fatta Allora dove siete? Velli Uh vieni qua Vieni qua Vieni qua Yes Non vale però Non vale Allora è una scodiglia di Luca Ok E quello di Ferre ovviamente è sotto le scale È banalissimo Vieni qua Ferre che ti mangia Non puoi passare Ho pagato il gioco Voi non potete passare Come ha fatto? Quindi io sarò Non ce l'ha fatta neanche Luca Con il suo pug Figurati voi che siete dei giganti Guarda Despi Guarda come ti prova Espi Adesso vieni fuori Vieni fuori con il vietto Sì Ho spaccato il bottiglione L'ho presa L'ho presa Davvero? Sì Sì Mamma mia Non c'è Non c'è No solo col muso No no È dentro Ma come? Giuro Adesso non so È riuscito Sono riuscito Basta saltare dentro Cioè sono saltato oltre i bottiglioni Ho spaccato i bottiglioni Lasciamo perdere Tanto non valeva Non valeva perché Come non valeva? Niente Poi dicono Capito a me che esagero Che prendo seriamente il nascondino Ma certo Uccisioni che valgono Uccisioni che non valgono Anche di avere la vittoria Come funziona qui? Se non ti avessimo detto io Luca dove la cantina Stavamo ancora girando Per tutta la casa Certo Cercate Capito Adesso mi vado a Vabbè Non riesco a parlare Stai zitto Espi era di nasconderci Forza Io mi voglio nascondere nella voliera Come cinghiale Espi Ti devi nascondere bene E non potrai essere un cinghiale Perché i cinghiali non si nascondono No Ok Espi Espi perché hai scelto la gallina Che c'è? Che c'è? Andiamo Se vi state che noca stiamo facendo Io sto aspettando che Espi mi raggiunga Perché è lentissimo Perché sceglie gli animali più pensabili Esatto Chi va piano va solo e va lontano Correre io Quindi in effetti mi sta superando Qui? Ti piace? Aspetta aspetta che Devo Coricati pure Luca a proposito dove sei? Ti sei caricato? Sono morto Ah le galline non si possono caricare Io mi sono appena incastrata Ok bene 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 Nessun riferimento dove siamo Nessun cocco quando sono vicini Niente di niente Dobbiamo vincere Ok? Ok ok Tranquillo Grazie Nel frattempo possiamo farci il nido qui Stef Anche secondo me dentro quel che ci spugliamo Sono davvero tanti Interessante Buona teoria Buona teoria Non so se fare chi 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 O cocco Oh mamma mia Oh mamma mia Li ho visti adesso Espi Li ho visti adesso Oh no No Siamo nei guai Quanto vorrei essere una mucca in questo momento Sarebbe così facile Eh a che servirebbe Non sarebbe facile Eeeh Ma siete dentro un cespuglio Ah no Disgraziato Vai 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 Scappa Prendilo Scappa Scappa gallina Scappa Perché non ho attaccato la cosa Scappa Perché non state riuscendo a picchiare la gallina Perché difficilissimo Non la prende Non la prende Continua a scappare Espi Senti noi Ho distrutto un nano da giardino Dov'è finito Adesso una morte Vai pestalo Scappa Espi Quanto ci mette a morire Quanto ci mette È una gallina piena di vita Perché ha fatto un sacco di uova Mamma mia Oh sì l'erbalta L'erbalta salvami 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 Non ti salverà niente No non siamo fuori Dentro Allora perché qua c'è un cagnolino Chi è che si è nascosto così Cosa Aspetta no no Voglio vederlo Voglio vederlo Sono un cagnolino anch'io Allora Chi è È Fere Nessuno No è Luca Nessuno Espi Era un cane in randaggio Espi Prendilo Vai borsicalo Ma Espi Da dove ne sei uscito fuori No Era Fere Era Fere Era Fere E Luca quindi È nello stesso posto Perché so che era nello stesso posto Per un topolino Come un topolino Quindi Sì sì lui si è fatto un topolino Non lo vedrete mai E non vincerete È impossibile Era una mosca Noi vinciamo sempre Allora teoricamente però Espi per trovare un topo Bisogna diventare dei topi Possiamo diventare topi Non è una bella idea Sì Espi diventiamo dei topi Oh sì Così li spieghiamo come funziona il mondo E andiamo a morsicarlo Espi Andiamo Abbiamo un po' di formaggio per lei Nessuna parte Dove sei Non gli interessa Ho già mangiato Espi non ti vedo Espi sono io Quindi non mi azzanare Questo Dove siete Firi? Mi vedi Espi? Non so più dove siete Pazienza No io sono domani a casa Ma allora è Luca? Sì Prendilo Forse No Non ci credo Espi pensavo che fosse tu E non ci hanno andato E invece era Luca Ma dove eri? Dimmi dove sei che vengo? Sono dentro casa Espi Sono dentro casa Tipo nelle cucine Sta scappando tutto il tempo Quindi cambia Io non ci sono Io lo sto guardando Luca vieni qua Ma dai fa schifo il topo per attaccare Luca Bravissimo Luca devi uscire fuori No Devi uscire da lì Ciao Steph Devi uscire Espi è lì dentro Ok circondiamolo L'ho visto No Espi L'hai fatto scappare Hai essere incastrato Scappa 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 ce la fai Dove siete dove siete dove siete Dammi informazioni È tipo la cosa principale Arrivo Vieni qua Porta chiuda Sì prendilo No no È difficile Quell'altro Steph non ammazzarmi Mamma mia Mamma mia È morto È morto È morto Grande Espi Ce l'abbiamo fatta Espi Finalmente Corro felice nei prati Perché abbiamo vinto un round Non penso che l'avete proprio vinto Perché Fere stai zitta Abbiamo vinto tutto l'anno Non è proprio giusto Ma vabbè Non è vero Fere Vabbè Vabbè Stai correndo felice Sì stai felicissimo Guarda corro anche io con te Ciao Fere Sono io Vieni ad abbracciarmi Eccomi Seguimi che andiamo a nasconderci Anche se non ho la minima idea Di dove andare Ok Ok Quindi Battiamo da questo presupposto Sì è un po' faticoso Aprire le porte Allora possiamo salire le scale Secondo te Vediamo Sì però Dovetevi Sì possiamo Possiamo Sì Ovvio Sto beccando tutti Veloci Dove Sì Trovato No un attimo Un attimo Due secondini Sì Non vedo l'ora di azzannarmi Sulla fronte Che balle No 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 Stavo uscendo per sbaglio Sì ti vedo Ti sei incattato Aspetta che vado in retro Aspetta Metto la retro Aspetta Espi Guarda il mio schermo Guarda il mio schermo Cioè capisci Capisci cosa devo Sopportarmi Io e poi ti lamenti Se ci metti un po' di tempo A nascondermi Ce l'ho fatta Andiamo Tanto che così non capirei mai Dove siete Stef Vai 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Espi ce l'ho fatta Perfetto Andiamo Luca Andiamo Dove sei tu? Qui è molto più comodo C'è un sacco di spazio E vabbè Ma è meglio essere stretti Così non mi vedono Allora Fer è un cagnolino E Luca Un topo Un topolino Anche lui sì Espi perché li hai salutati? Perché li devi dare gli indizi Già Abbiamo appena iniziato Oh no Perché l'ho fatto? Guarda come corre Io non lo sopporto Io non lo sopporto Allora Ve lo dico Io non lo sopporto ad Espi Dattemi qualcun altro Come compagno Un bot Luca è il compagno perfetto Per quello ti lascio Espi Lo so che Luca è il compagno perfetto Lo vorrei anche io Perché? Cos'ha Luca che io ne no? Intanto vogliamo scommettere Che nessuno mi troverà Dove mi sono nascosto Secondo me ti trova ne come? No è perfetto Non appena Luca Finisce di esplorare Qualche suo dubbio Ci trova Oh oh No 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 Luca Sto spostando tutto Quindi sono in questa zona Espi Non sono qua Ciao Espi No Non vedi nulla È il mio nascondiglio Togliti Tu mi avevi detto di venire Stanno litigando tra di loro Sì non è giusto Adesso non ci troveranno mai Ciao Luca Sono qua dietro la porta Ma davvero? Vai Fede Che porta? Non fa Quello sono io Ma dai E perché adesso Non riesco a prenderti Ma quale porta? Scusate ma che dici? Ma che dici? Allora devo Fede Che porta vedi scusami? Ma che porta? Allora la porta è trasparente Ha un vetro Quindi vi vedo qui dietro esattamente Il problema è che non vi posso prendere Noi siamo nel balcone Fede C'è il sole Sì ma ci stanno minacciando Dobbiamo per forza scappare in qualche modo Ma no Allora Ho una mezza idea Mi respinge Cioè hanno messo una barri Ah ci sono Disgraziato Non puoi fare nulla Io non posso Esatto È tutto calcolato Ah sì Come si fa? Espy Hai capito? No Cosa? Cosa? Dove? Perfetto Perfetto Figurati se espi Allora Allora È arrivato Luca È arrivato Luca È arrivato Luca No quello è Luca Espy Io non ci sono più Ma ne sono andato Come? Cioè dove sei andato? Sì io sono andato via Fede non se ne accorta Ma sono scappato È certo perché sei passato da dietro le scatole È vero? È esatto Anzi lo spingo Lo spingo Fede ti vedo però Non puoi spingi Sei qui dietro secondo me Esatto Come hai fatto a capirlo subito? Ma sei davvero lì dietro? Sì Non è vero Lasciami andare Fede girati Mi vedi? Che cavolo vuoi? Mi vedi? No Fede Sei sotto il pavimento Dai Cosa? Ma com'è possibile? Ho trovato un bug Per andare sotto il pavimento No no Non vale Questo non vale Nessuno lo spingi Il tappeto Puoi andare sotto il tappeto Cosa? Già Che bello Aspetta Ferri Aspetta che risbucco Sei pronta? Vai Allora Guardami Dietro di te Aspettate posso venire a vedere Ciao Ferri Mi vedi? Non si muove bene il cane Ciao E me ne vado T'ho provato a prenderti al volo Vai risbucca Facciamo acchiappa la talpa Vai No non è divertente Vai vai Facciamo acchiappa la talpa Chi vince Opla Ciao Ferri Eh no però mi devi dire dove sei È troppo grande sto tappeto Ciao Ferri No No non puoi fare tutta la casa Ti ho detto il tappeto Ciao Ferri Vai dove sei Non c'è un bug nel tappeto Sono invisibile io Perché sei invisibile? Perché l'ho impostato con i cheat Quindi quando io ero scappato via In realtà ero andato semplicemente con l'invisibilità E me ne sono andato E ti stavo dietro Luca devono morire Tutto il tempo con l'invisibilità Devono morire con questi trucchi da infami Devono proprio morire Io sono in un'altra stanza Esci fuori e fatti uccidere No Come? Mi arreso le morti Luca Me le arrese tutte Non ti puoi lamentare con tutte le volte che l'ho ucciso Ciao Luca Sono davanti a te Direi che ci possiamo fermare così per questo video È stato davvero fantastico fare il nascondino con gli animali Molto strano Molto strano Molto complicato Però secondo me con i topolini si può riproporre Si può pensare di rifarlo ancora Quindi fateci sapere nei commenti e con il sondaggio se lo vorreste rivedere Nel caso in che location vi piacerebbe vederlo Direi che ci possiamo fermare Ovviamente gli animali che volano non li abbiamo usati per ovvi motivi Perché altrimenti sarebbe diventato impossibile trovarci Però potrebbe essere divertente anche Organizzare qualcosa in questo senso lì Quindi fateci sapere nei commenti Tanti likes Ricordatevi di passare dal canale di Espegiochi Che come sempre è in descrizione E ci fermiamo così Buongiorno ragazzi Così si è già già Sieteci un like E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerarli Da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Ciao